Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video realizzato in collaborazione con la Gilda degli Insegnanti di Reggio Calabria. Quest'oggi parleremo delle informazioni utili alla presa di servizio per i neoassunti in ruolo anno 2021-2022. Con precisione tratteremo appunto di cosa portare il giorno della presa di servizio. Informazioni sulla presa di servizio. La presa di servizio deve essere compilata il 1 settembre o, in caso di eventuale differimento per improrogabili esigenze, il primo giorno in cui si va a scuola. Tutti i dati che andremo a descrivere saranno dichiarati per mezzo di un modello in autocertificazione che ogni scuola nel corso degli anni ha provveduto a personalizzare seguendo le esigenze dell'istituto. Ragion per cui ogni neoimmesso in ruolo dovrà fare specifico riferimento alla propria sede di assegnazione per la stesura del documento. Cosa viene richiesto nello specifico? I dati anagrafici, i contatti telefonici o e-mail, lo stato civile, la residenza, i titoli di studio posseduti. Verrà richiesto inoltre di sottoscrivere la mancanza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano misure di sicurezza o prevenzione, oppure di non essere stati destinatari di condanne di interdizione dai pubblici servizi o ulteriori condanne. Per farla breve, all'interno di questo documento in autocertificazione si dovranno appunto autocertificare tutte le informazioni utili alla presa di servizio. Ed ancora, bisognerà sottoscrivere anche una parte relativa alla mancanza di incompatibilità di cui all'articolo 508 del Decreto Legislativo 297 del 94, per il solo personale docente relativo a lezioni private o a svolgimento di altra professione o altro pubblico in carico, o dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 165 del 2001, relativo a tutto il personale per incarichi di direzione o incarichi diversi da quelli pubblici. Questa parte è molto importante per verificare eventuali incompatibilità. Parte economica. Per la parte prettamente economica viene richiesto il codice IBAN per i neoassunti o per chi non ha mai avuto un contratto a scuola, o il numero di partita fissa, o copia di un cedolino per chi ha già avuto un contratto nella scuola. Bisognerà poi comunicare se si è iscritti ad una forma di previdenza complementare qualsiasi. Lo storico dei servizi. Occorre comunicare l'elenco delle scuole o degli istituti dove si è precedentemente prestato servizio, ed è importantissimo al fine della ricongiunzione del fascicolo personale per chi dopo molte supplenze firma finalmente il contratto a tempo indeterminato. Vi sarà inoltre l'autorizzazione al trattamento dei dati che si sottoscriverà in favore della scuola. Come recuperare lo storico dei servizi. Occorre accedere a distanze online per mezzo dello speed o delle apposite credenziali, cliccare sulla voce in alto a sinistra altri servizi ed entrare nel sottomenu contratti di lavoro a tempo determinato. Per i contratti più datati nel tempo occorre invece andare nel sottomenu contratti online e ci ritroveremo lì lo storico di tutti i nostri servizi. Grazie infinite per l'attenzione e congratulazioni a tutti i ne ho immessi in ruolo 2021-2022 dalla Gilda degli insegnanti di Rezzo Calabria.